La presentazione 45 secondi è tutto ciò che serve sapere per cominciare a costruire una vasta organizzazione. Infatti, se uno non è in grado di comprendere questa presentazione, può leggerla ad un amico o scriverla su un foglietto, affinché i suoi amici la leggano da soli. Oltre a questa presentazione, non hai bisogno di sapere altro. Una volta che hai capito e ti sei convinto di ciò che hai letto, puoi presentare la tua opportunità a chiunque, perché veramente chiunque può crearsi un business se lo vuole. Tutto ciò di cui hai bisogno è un piccolo desiderio. Senza i desideri non hai nulla. Il segreto del sistema che insegniamo non è il parlare. Il parlare è il tuo peggior nemico. Più parli, più il tuo interlocutore pensa di non poter fare quello che fai tu. Più parli, più pensa di non avere tempo. Ricorda che il tempo è la scusa numero uno della gente che non si sente pronta per cominciare. Dopo che i tuoi amici avranno letto la presentazione 45 secondi, potrebbero farti una domanda. A prescindere da quale domanda sia, se rispondi, hai perso. Avranno altre cinque domande prima che tu te ne accorga. Comincerai a rimbalzare di qua e di là. Di loro semplicemente che avranno un mucchio di domande e che il sistema è strutturato per rispondere alla maggior parte di esse. Fa solo leggere le prime quattro presentazioni foglietto e poi falli tornare da te. Non dire mai al tuo interlocutore di leggere il libro. Lo metterebbero su uno scaffale e tornerebbero a prenderlo chissà quando. Invitali a leggere le prime quattro presentazioni foglietto. Le leggeranno subito e più del 90% finirà il libro in men che non si dica. Dopo aver letto il libro, il tuo interlocutore capirà il network marketing. Ciò è importante perché la ragione numero uno per la quale la gente non agisce è perché non capisce. Ora capiranno il network marketing e saranno pronti perché tu possa presentare loro il tuo veicolo commerciale, la tua azienda, i tuoi prodotti e il tuo piano di marketing. Ma avevo detto che non serviva a conoscere altro che la presentazione 45 secondi per partire. Quindi a questo punto potresti usare alcuni strumenti oppure la tua squadra perché parlino al tuo posto. Gli strumenti potrebbero essere delle brochure, delle registrazioni audio o video dell'azienda. La squadra sarebbe invece il tuo livello immediatamente superiore a partire dalla persona che sarà il tuo sponsor. Supponiamo che tu sia con la tua prima persona potenziale. Hai fatto la presentazione 45 secondi e lei ha già letto il libro. Supponiamo che inviti questa persona a pranzo. Falle sapere che inviterai anche il tuo sponsor che illustrerà il business al posto tuo. Punto essenziale. Chi pagherà il pranzo? Tu ovviamente. Il tuo sponsor lavora per te. Quante volte dovrai offrire il pranzo o la cena al tuo sponsor prima di spiegare il business per conto tuo? C'era un tizio venuto ad un nostro seminario in Germania che diceva non solo non hai bisogno di conoscere niente per partire ma puoi anche avere il pranzo pagato tutti i giorni quando lavori per i tuoi sottolivelli. Quindi buon appetito e guarda crescere il tuo business. Capitolo 1. Introduzione al multi-level marketing. Il multi-level marketing è uno dei metodi di commercializzazione dei prodotti con la crescita più rapida e peggio compresi al giorno d'oggi. È stato etichettato da molti come l'onda degli anni 80. Credimi andrà ben oltre. Per gli anni 90 più di 100 miliardi di dollari di prodotti e servizi saranno commercializzati annualmente attraverso aziende di multi-level marketing. Lo scopo di questo libro è fornire a te lettore attraverso illustrazioni ed esempi che cos'è e cosa non è il multi-level marketing. Ti mostreremo anche come puoi efficacemente, ripeto efficacemente, spiegare il multi-level marketing agli altri. Questo libro dovrebbe essere considerato come un manuale d'addestramento da utilizzare come strumento per aiutarti ad addestrare le persone della tua organizzazione. Includilo nel loro pacchetto iniziale di formazione al tuo programma. Don Failla ha sviluppato le presentazioni Foglietto, sulle quali è basato questo libro sin dal 1973. Io sono stato coinvolto nel multi-level marketing per un motivo o per l'altro sin dal 1969. Questo libro copre tutte le 10 presentazioni sinora sviluppate. Prima di entrare nel dettaglio delle 10 presentazioni Foglietto, permettemi di rispondere a una delle domande più frequenti, probabilmente la più basilare di tutti. Che cos'è il multi-level marketing? Questa domanda è abbastanza frequente in relazione ad una spillina che indossiamo. Per tutto il libro utilizzeremo indifferentemente la sigla MLM oppure multi-level marketing. Scomponiamolo. Marketing significa semplicemente trasferire un prodotto o un servizio dal produttore al consumatore. Multi-level si riferisce al sistema di compensazione fornito a quelle persone che causano il trasferimento del prodotto o del servizio. Multi- significa più di uno. Level si riferisce a ciò che potrebbe essere denominato più correttamente generazione. Ci si potrebbe quindi riferire al multi-generation marketing. Noi continueremo a chiamarlo multi-level dato che l'eccezione è più comune. In realtà è talmente comune che molte piramidi illegali e schemi di distribuzione a catena o catene di Sant'Antonio cercano di farsi passare come programmi multi-level. Ciò crea un tale marchio d'infamia anche se ingiustificato che molte delle nuove aziende di multi-level marketing usano alte denominazioni per il loro tipo di marketing. Alcune di esse che si sentono in giro sono unilevel marketing, network marketing oppure co-op mess marketing. In realtà ci sono solamente tre metodi per veicolare i prodotti. Metodo numero uno vendita al dettaglio. Sono sicuro che per chiunque il termine sia familiare, il salumiere, la drogheria, i grandi magazzini, entri in un negozio e compri qualcosa. Metodo numero due vendita diretta. Comunemente, ma non sempre, include le assicurazioni, le metropedie, le batterie da cucina, eccetera. Fuller Brush, la signora della Avon, gli incontri casalinghi serali di Tupperware, eccetera, sono alcuni esempi di attività di vendita diretta. Metodo numero tre. Multi-level marketing. È quello di cui discuteremo in questo libro. Non deve essere confuso con gli altri due, specialmente con il metodo di vendita diretta con il quale il multi-level marketing è solitamente confuso. Una quarta tipologia di marketing, che a volte viene aggiunta alla lista, è la vendita postale. La vendita postale può essere un tipo di multi-level marketing, ma al più delle volte viene incluso nella categoria della vendita diretta. Una quinta tipologia, alla quale ho già accennato, spesso confusa con il multi-level marketing, sono le vendite piramidali. Il fatto è che le vendite piramidali sono illegali. Una delle principali ragioni per cui sono illegali è che non riescono a veicolare un prodotto o a fornire un servizio malido. Se un prodotto non viene veicolato, come fai a chiamarlo persino marketing? Figurati multi-level marketing. Forse possono considerarsi multi-level, ma marketing mai. Le obiezioni più comuni delle persone che stanno per entrare nel multi-level marketing sono legate alla non comprensione delle differenze tra il multi-level marketing e i metodi di marketing per la vendita diretta. Questa confusione è comprensibile perché la maggior parte delle aziende di multi-level marketing di comprovata reputazione appartengono alla associazione delle vendite dirette. Probabilmente sei stato condizionato a pensare a questi programmi come applicazioni di vendita diretta porta a porta, perché il tuo primo incontro con loro è stato quando un distributore ha bussato la tua porta per venderti qualcosa. Ci sono alcune caratteristiche che differenziano il multi-level marketing dall'azienda di vendita al dettaglio e vendita diretta. Una differenza molto significativa è che nel multi-level marketing tu sei in affari per conto tuo, ma non da solo. Se sei in affari improprio, sia che operi fuori di casa, che soprattutto in casa, potresti avere diritto ad alcuni sostanziali vantaggi fiscali. Non discuteremo di questo aspetto in questo libro. La maggior parte delle persone possono ricevere queste informazioni dal loro commercialista o ricavarle dai molti libri scritti sull'argomento. Se sei in affari improprio, compri i prodotti all'ingrosso dall'azienda che rappresenti. Ciò significa che puoi, e dovresti, usare questi articoli per il tuo consumo personale. Molte persone all'inizio entrano in un programma di un'azienda di multi-level marketing solo per questa ragione, comprare all'ingrosso. E molti di esse diventano serie. Dato che stai acquistando i tuoi prodotti all'ingrosso, se lo desideri, puoi vendere questi prodotti al dettaglio e ottenere del profitto. Il più grosso equivoco nel multi-level marketing è l'idea che devi vendere al dettaglio per avere successo. C'è moltissimo da dire sulla vendita al dettaglio e non lo si dovrebbe dimenticare. Alcuni programmi richiedono addirittura di raggiungere una determinata quota di vendite al dettaglio per potersi qualificare per un bonus. Puoi quindi vendere se lo desideri e se devi farlo a causa di particolari requisiti del tuo programma, ma per aumentare al massimo gli introiti il vero successo sta nel costruire l'organizzazione. Punto importante. Lasciate che le vostre vendite siano una conseguenza naturale della costruzione dell'organizzazione. Molte più persone falliscono invece di avere successo tentando di operare al contrario, cercano di costruire l'organizzazione e enfatizzando le vendite. Questo concetto sarà chiarito nelle presentazioni foglietto che seguono. La parola vendere fa scattare pensieri negativi nella mente del 95% delle persone. Nel multi-level marketing non hai bisogno di vendere i prodotti nel senso tradizionale del termine. Tuttavia, il prodotto si deve veicolare, altrimenti nessuno, ma proprio nessuno, viene pagato. Te lo ripeto ancora. Il prodotto si deve veicolare, altrimenti nessuno viene pagato. Un altro nome usato per il multi-level marketing è network marketing. Quando costruisci un'organizzazione, in realtà stai creando una rete attraverso la quale distribuire i tuoi prodotti. La vendita al dettaglio è il fondamento del network marketing. Le vendite nel network marketing derivano da distributori che condividono i prodotti con i loro amici, i loro vicini o i loro parenti. Non devono mai rivolgersi a sconosciuti. Per costruire un business di grande successo hai bisogno di equilibrio, hai bisogno di sponsorizzare ed insegnare il multi-level marketing e durante questo processo puoi costruire una base di clienti vendendo al dettaglio ai tuoi amici, ai tuoi vicini o ai tuoi parenti. Non cercare di vendere a tutto il mondo da solo. Ricordati che network marketing o marketing multilivello significa costruire un'organizzazione in cui molti distributori vendono un pochino ciascuno, cioè decisamente meglio che avere pochi che tentano di fare tutto da soli. Per virtualmente tutte le aziende di multi-level marketing il bisogno di spendere grandi somme di denaro in pubblicità non esiste. La pubblicità viene fatta quasi esclusivamente con il passaparola. Per questo motivo queste aziende hanno più denaro da destinare allo sviluppo dei prodotti. Come risultato normalmente esse possiedono prodotti di qualità maggiore rispetto a quelli dei concorrenti che si trovano nei negozi. Puoi condividere con un amico un prodotto di alta qualità di un tipo che sta già utilizzando. Stai semplicemente sostituendo la tua vecchia marca con qualcosa che attraverso la tua esperienza hai scoperto essere meglio. Vedi quindi, non è come andare a vendere porta a porta ogni giorno rivolgendosi a degli sconosciuti. Tutti i programmi di multi-level marketing o di network marketing che conosco insegnano semplicemente a condividere la qualità dei loro prodotti o servizi con amici e questa è tutta la vendita coinvolta. Un altro aspetto che differenzia il multi-level marketing dalla vendita diretta è la sponsorizzazione di altri distributori. Nella vendita diretta e persino in alcune aziende di multi-level marketing viene chiamato reclutamento. Tuttavia sponsorizzazione e reclutamento non sono assolutamente la stessa cosa. Tu sponsorizzi qualcuno e gli insegni come fare ciò che tu già fai. Costruirsi un business in proprio. Sottolineo, c'è una grande differenza tra sponsorizzare qualcuno e semplicemente iscriverlo. Quando sponsorizzi qualcuno ti stai impegnando verso di lui. Se non hai intenzione di impegnarti in questo modo, allora iscrivendolo gli stai procurando solamente un danno. A questo punto tutto ciò che devi fare è aiutarla a costruire un business in proprio. questo libro rappresenta uno strumento di valore incommensurabile per mostrarti cosa e come fare. È una responsabilità dello sponsor insegnare alle persone che inserisci nel business tutto ciò che sai al riguardo, come per esempio ordinare i prodotti, mantenere uno storico, partire nel modo giusto, come costruire e addestrare la propria organizzazione eccetera eccetera. Questo libro rappresenta il lungo cammino che ti farà diventare capace di assumerti questa responsabilità. La sponsorizzazione è ciò che permette ad un'opportunità di multi level marketing di svilupparsi. Più la tua organizzazione cresce, più diventi un uomo d'affari indipendente e di successo. Tu sei il tuo capo. Con le aziende di vendita diretta tu lavori per l'azienda. Se decidi di lasciare quel lavoro e fare qualcos'altro, finisci per incominciare ancora tutto da capo. Invece in quasi tutti i programmi di multi level marketing che conosco, puoi trasferirti in un'altra zona del tuo paese e sponsorizzare persone senza perdere il volume generato dal gruppo che hai lasciato. Nei programmi di multi level marketing puoi guadagnare un mucchio di soldi. Puoi volerci di più con un'azienda piuttosto che con un'altra. Ma fare molti soldi dipende sempre dal costruirsi un'organizzazione e non solo dal vendere i prodotti. Se il tuo obiettivo è la sicurezza, con alcuni programmi puoi vivere tranquillo solo con la semplice vendita dei prodotti, ma potresti fare una fortuna dedicandoti principalmente alla costruzione di un'organizzazione. Le persone entrano in un business multi level con l'idea di portarsi a casa 50, 100 e persino 200 dollari al mese, ma immediatamente capiscono che se affrontassero il business seriamente potrebbero fare 1000 o 2000 dollari al mese o persino molto di più. Ancora una volta ricordati che una persona non riesce a fare tutti quei soldi solamente vendendo i prodotti, ci può riuscire solamente costruendo un'organizzazione. Questo è lo scopo del libro, insegnarti le cose che devi sapere per poter costruire un'organizzazione e costruirla velocemente e sviluppare un atteggiamento convinto e corretto nel multi level marketing. Se una persona ritiene che il multi level marketing sia legale, dato che possiedi i connotati di una piramide, allora avrai dei seri problemi cercando di sponsorizzarla. Devi insegnarle infatti ciò che le permette di eliminare l'atteggiamento errato di ritenere una vera organizzazione multi level marketing come una piramide. Un esempio che puoi mostrarle è quello di creare tu stesso un'illustrazione su un foglio. Costruisci due piramidi. Una piramide è costruita dall'alto verso il basso e solamente quelli che sono entrati all'inizio possono essere vicini alla cima. Nel triangolo multi level marketing chiunque inizia in fondo ha le stesse opportunità di costruirsi una grande organizzazione. Può costruire addirittura un'organizzazione molto più grande di quella del suo sponsor solo se lo vuole. L'obiettivo principale è quello di convincere la persona che ti interessa in una discussione generale relativa al multi level marketing e spiegarle con le tre dita la differenza tra vendita al dettaglio, vendita diretta e multi level marketing. Dopodiché potrai riuscire a sponsorizzarla efficacemente all'interno del tuo progetto multi level marketing. Come ho accennato prima, entro il 2010 il multi level marketing produrrà un giro d'affari annuali di oltre 200 miliardi di dollari. Questo è un grande business. Molte persone non si rendono conto che il multi level marketing sia così grande. Il multi level marketing è tra noi da oltre 50 anni ormai. Ci sono aziende che sono sul mercato da oltre 45 anni e fatturano con successo oltre un miliardo di dollari l'anno. Conosco un'azienda che ha fatturato più di 6,5 milioni di dollari nel suo primo anno di attività. Nel secondo ha superato i 62 milioni. Per il terzo anno ha previsto 122 milioni. Il loro obiettivo è quello di raggiungere un miliardo all'anno entro il loro decimo anno. I principi esposti in questo libro prenderanno quell'obiettivo raggiungibile. Questa è una partenza a razzo per qualunque settore. Il multi level marketing è una delle vie attraverso la quale un inventore o un produttore può mettere sul mercato un nuovo prodotto senza dover possedere milioni di dollari e senza dover per questo rinunciare al proprio prodotto in favore di altri. Capitolo 2 Presentazione foglietto numero 1 2x2 fa 4 Questa presentazione può illustrarla al tuo candidato potenziale prima del programma in cui vuoi coinvolgerlo. Tuttavia è un dovere assoluto mostrarglielo subito dopo avergli presentato il tuo programma. Devi guidare il suo pensiero nella giusta direzione sin dal primo giorno. La presentazione serve per eliminare il pregiudizio che il candidato ha nel pensare di dover andare a sponsorizzare il mondo per poter fare molti soldi nel multi level marketing. Questa presentazione gli mostrerà anche quanto importante sia lavorare con le sue persone ed aiutarle a partire. Questa presentazione inizia scrivendo su un foglio 2x2 uguale 4 e continuando ripetendo la moltiplicazione 4x2 uguale 8 8x2 uguale 16 e così via. Spesso scherzo dicendo che se sponsorizzi qualcuno che non è capace di fare queste operazioni allora lascialo perdere perché avrei solo dei problemi a lavorarci insieme. Nota che stiamo usando il termine sponsor ora. Alla destra della colonna con le moltiplicazioni per due scriviamo 3x3 uguale 9 e così via e diciamo qui sponsorizzi tre persone ed insegni loro, bada, iniziamo a usare anche il termine insegnare, a sponsorizzarne altre tre arrivando così ad averne altre nove. Dopodiché addestri le tue tre persone a come insegnare a queste nove a sponsorizzare così arrivi a 27. Scendendo di un altro livello arrivi a 81. Nota bene la differenza tra 16 e 81. Fagli porre attenzione a questo e chiedigli se anche lui la ritiene una bella differenza. Poi sottolinea che la vera differenza è 1. Ciascuno sponsorizza solamente una persona in più. Normalmente avrai una reazione a questa affermazione ma continua dritto perché diventerà ancora meglio. E ancora una volta sottolinea ora c'è una differenza considerevole qui ma avrai anche questa volta una reazione non appena il tuo candidato comincerà a rendersi conto del concetto e probabilmente ti interromperà dicendo. La vera differenza è che ciascuno ha sponsorizzato solamente due persone in più. Supponiamo ora che tu sponsorizzi 4 persone nel programma. Spostandoti alla destra della colonna delle moltiplicazioni per 3 scrivi un'altra serie di moltiplicazioni mentre ne parli. Vediamo ora cosa succede se ciascuno sponsorizza solo due persone in più. Mentre continui a scrivere spiega che tu ne sponsorizzi 4 ed insegni loro a sponsorizzarne 4. Dopo aiuti i tuoi 4 ad insegnare ai loro 16 di sponsorizzarne 4 aggiungendo quindi 64 persone al tuo gruppo. Scendendo solamente di un altro livello e quasi senza accorgertene il tuo gruppo conta 256 persone. Terminiamo con 5. Normalmente il tuo interlocutore ci sta già arrivando da solo e comincia a seguirti mentalmente o verbalmente mentre tu scrivi l'ultima colonna di moltiplicazioni. Adesso puoi evitare la parola sponsor o insegnare mentre scrivi i numeri commentando solamente 5 per 5 fa 25 per 5 fa 125 per 5 fa 625. Adesso sì che è una differenza fantastica. Ancora una volta la reale differenza è che ciascuno doveva sponsorizzare tre persone in più. La maggior parte delle persone può mettere in relazione la sponsorizzazione di 1, 2 o 3 persone ma generalmente trova difficile mettere in relazione i numeri della linea più in basso 16, 81, 256 e 625. Dunque ora collocati nell'ultima colonna avendo avuto il tempo di sponsorizzare 5 persone serie nel programma. Il 5 in cima alla colonna rappresenta gli sponsorizzati che seriamente intendono costruirsi un business improprio. È probabile che tu debba sponsorizzare 10, 15 o 20 persone per ottenere questi 5. Tuttavia appena hai compreso pienamente tutte e 10 le presentazioni di foglietto scoprirai che le tue persone diventeranno serie più velocemente di quelle che entrano in organizzazioni che non fanno uso di questo materiale. Questo libro ti insegnerà come lavorare con queste persone per farle diventare serie più velocemente. Nota nella figura che dopo aver sponsorizzato 5 persone, le quali hanno sponsorizzato 5 persone e così via giù sino in fondo, sommando tutte queste persone ottieni 780 persone serie nella tua organizzazione. Facendo questo otterrai un aiuto per rispondere alla domanda. Non c'è qualcuno che deve vendere il prodotto? Tutti avranno sentito questa domanda in precedenza se sono stati veramente operativi nel network marketing. Bene, scorri con loro questa presentazione foglietto e spiega loro che 2x2 fa 4 sino a 780 distributori. In qualunque tipo di organizzazione di multilevel marketing, se possiedi 780 persone che usano il prodotto per se stessi, ottieni un volume tremendo. Ora, se ciascuno di essi possiede 2, 3, 4 o 5 amici, diciamo in generale che ciascuno di essi abbia 10 clienti tra i propri amici, parenti o conoscenti, ossia un totale di 7800 clienti. Aggiungi a questi i 780 distributori nella tua organizzazione. Pensi che 8.580 clienti più i solamente acquirenti siano sufficienti a costruire un'impresa redditizia? Ecco come fare un mucchio di soldi in qualsiasi business. Avere un mucchio di persone che fanno ciascuna qualcosina. Ma ricorda, stai lavorando solamente con 5 persone serie, non con un esercito intero. Stiamo costantemente in contatto con persone facenti parti di altri programmi di multilevel marketing, simili alla nostra, stupite per la velocità di crescita delle nostre organizzazioni. Queste persone stanno all'interno dei loro programmi da molto tempo, chiedendoci cosa fai tu che io non faccio? La nostra risposta è con quante persone nel tuo primo sottolivello stai lavorando? Il primo sottolivello rappresenta le persone direttamente sponsorizzate da te. Sono anche detti distributori della front line. Sento spesso numeri che vanno da 25 a 50 e ancora più alti. Conosco persone nel multilevel marketing che hanno più di 100 elementi nel loro primo sottolivello e che ti garantisco, una volta che comprendi i principi spiegati in questo libro, lascerai perdere nel giro di 6 mesi persino se si trovano all'interno delle loro organizzazioni da 6 o 8 anni. Voglio fornirti un semplice parallelismo su questo punto, ossia perché tutte quelle persone del primo sottolivello non vadano bene e lo farò non appena ci addentreremo nella presentazione foglietto numero 2 che tratta la sindrome del venditore fallito nel multilevel marketing. Considera l'esercito, la marina, l'aeronautica, i marines o la guardia costiera. Dal soldato di grado più basso al più medagliato generale del pontagono, nessuno di loro ha più di 5 o 6 persone che supervisiona direttamente. Ci sono ben rare eccezioni a questo. Pensaci. Pensa alle accademie di West Point e di Annapolis, con più di 200 anni di esperienza ciascuna e nessuno al loro interno pensa che qualcuno debba supervisionare più di 5 o 6 persone. Dimmi quindi perché certa gente che entra in un'organizzazione di multilevel marketing pensa di poter lavorare efficacemente con 50 persone nel proprio primo sottolivello. Non si può proprio fare. Ecco perché la maggior parte di esse falliscono e vedrai nello specifico il perché nel proseguo. Non dovresti mai cercare di lavorare con più di 5 persone serie alla volta. Tuttavia, assicurati che quando le sponsorizzi tu cominci a lavorare per il gruppo verso il basso. Esiste un momento in corrispondenza del quale non avranno più bisogno di te e allora diventeranno indipendenti e cominceranno a sviluppare un'altra linea per conto proprio. Ciò ti permetterà di dedicarti a lavorare con un'altra persona seria, tenendo sempre in mente che il numero di quelli con cui lavori direttamente sarà al massimo 5. Alcuni programmi ti permettono di essere efficace solo con 3 o 4 alla volta, ma nessuno di quelli che conosco possono essere costruiti efficacemente con più di 5. Queste presentazioni di foglietto sono tutte collegate perfettamente, perciò di seguito troverai le risposte a molte delle tue domande attuali. Capitolo 3 Presentazione foglietto numero 2 La sindrome del venditore fallito Perché molti venditori falliscono quando lavorano in un business di multi-level marketing? Questa presentazione chiarirà quali sono gli errori più comuni commessi da un professionista orientato alle vendite. Ti spiegheremo anche perché preferiamo sponsorizzare 10 insegnanti piuttosto che 10 venditori. Intendiamoci, ritengo che i venditori professionisti siano un valore immenso per la tua organizzazione, ma solo se studiano e comprendono appieno le 10 presentazioni di foglietto, come tutti gli altri. Molta gente resta confusa dalle affermazioni precedenti. Ma ricordati, ancora non capisce che il multi-level marketing è una metodologia di marketing. Non stiamo sponsorizzando persone all'interno di un'organizzazione di vendita diretta. Stiamo sponsorizzandole all'interno di un programma di multi-level marketing. Molto spesso, il problema che hai con i venditori è che quando percepiscono l'alta qualità dei prodotti che tu rappresenti, si limitano ad imparcarsi nell'avventura e a partire a sprombattuto, per così dire. Possono prepararsi da soli la loro presentazione e non hanno bisogno che tu insegni loro come vendere. Sono loro i professionisti. Invece, il punto è che tu non devi insegnare loro a vendere, ma devi insegnare loro a insegnare e sponsorizzare per costruire una grande organizzazione di multi-level marketing. E loro così, come chiunque altro, possono farlo, senza vendere niente, nel significato più letterale del termine vendere. Se non riesci a sederti e spiegare loro alcune cose semplici relativamente al multi-level marketing e al perché sia diverso dalla vendita diretta, la loro tendenza sarà quella di partire nella direzione sbagliata. Nel proseguo delle presentazioni di foglietto ti farò alcuni esempi. La maggior parte della gente, e in particolar modo i venditori, pensano che sponsorizzando una persona tu abbia semplicemente raddoppiato la tua forza. Ce n'è uno e ora ce ne sono due. Logico, ma non corretto. La ragione di questo è che se la persona rappresentata dal cerchietto in alto, lo sponsor se ne va, via via anche quella che aveva sponsorizzato non continuerà. Devi spiegare alle tue persone che se davvero vogliono duplicarsi devono avere almeno tre sottolivelli. Solo allora sono davvero duplicate. Se il tuo sponsor uscisse prima che tu abbia avuto la possibilità di verificare se il programma funziona davvero, probabilmente riterresti che non funziona, dato che per il tuo sponsor non ha funzionato. Dopotutto lui è il tuo sponsor e ne sa decisamente molto di più di te sull'argomento. Supponiamo che tu sia qui, disegna un cerchietto e scrivici dentro tu. E che sponsorizzi Anna, disegna un altro cerchietto sotto al tu e scrivici dentro Anna. E collega i due cerchietti con una linea. Ora, se tu te ne vai e Anna non sa cosa fare, perché tu non gliel'hai mai insegnato, allora finisce tutto. Ma se tu insegna ad Anna come sponsorizzare e lei sponsorizza Ugo, allora tu hai solamente iniziato a duplicarti. Ma se Anna non insegna ad Ugo come sponsorizzare, ancora una volta sarà un fiasco e la fine di tutto. Devi insegnare ad Anna come insegnare ad Ugo a sponsorizzare, così lui può sponsorizzare Pia o chiunque altro. A questo punto hai tre sottolivelli. Se esci dal programma per lavorare con qualcun altro oppure per trasferirti altrove, tutto questo sottogruppo continuerà a lavorare. Sottolineo due volte. Devi avere tre sottolivelli. Non hai niente sino a quando non hai tre sottolivelli e solo allora ti sei duplicato veramente. Anche se non hai mai comunicato nient'altro, a parte questo alle persone che hai sponsorizzato avrai la chiave per avere molto più successo nei programmi di multi-level marketing della maggior parte degli altri. Ecco cosa accade ai venditori. Partecipano alle dimostrazioni dei prodotti, ascoltano o leggono testimonianze sui risultati ottenuti da altri usando i prodotti e come questi ultimi funzionano. Armati di queste informazioni è meglio togliersi di torno perché cominceranno a vendere come dei pazzi. Ricordati, sono venditori. Lavorano nel business della vendita diretta e non hanno alcuna remora a rivolgersi a degli sconosciuti. Perfetto, quindi ti rivolgi al tuo super venditore, chiamandolo Leo, dicendogli Leo se vuoi fare veramente tanta grana non puoi continuare da solo, devi sponsorizzare delle persone. E cosa fa Leo? Comincia a sponsorizzare, 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 sponsorizzerà un reggimento. Un buon venditore in un programma di multilevel marketing arriva a sponsorizzare tre o quattro persone alla settimana. Quindi ecco cosa accade. Arriva al punto, e non ci si impiega nemmeno tanto, che le persone escono dal programma con la stessa velocità con cui sono entrate. Se non lavori con loro efficacemente, e non lo puoi certo fare se cerchi di lavorare con più di cinque persone alla volta, li vedrai scoraggiarsi e poi rinunciare. Così Leo, scoraggiato ed un po' impaziente, pensa che non stia succedendo nulla e si rivolge altrove per trovare qualcosa da vendere. La persona che aveva sponsorizzato Leo, pensando che Leo potesse renderla ricca, a sua volta si scoraggia e rinuncia anche lei. La maggior parte delle persone che hanno avuto grandi risultati nel multilevel marketing non possiede una formazione da venditori. Non possono nemmeno essere degli insegnanti professionisti, ma la maggior parte di essi possiede un bagaglio culturale nel quale c'è una parte legata all'insegnamento. So di un preside di una scuola che dopo solo 24 mesi in un programma di multilevel marketing guadagnava più di 15.000 dollari al mese. È questo perché aveva insegnato ad altri come riuscirci. Mettiamo dei numeri all'approccio di Leo, così possiamo vedere chiaramente come è andato male. Supponiamo che Leo, essendo un super venditore, abbia sponsorizzato 130 persone. Supponiamo inoltre che sia riuscito a far sponsorizzare 5 persone a ciascuno di essi, inserendo quindi altre 650 persone nella sua organizzazione, per un totale di 780. Quando gli mostri questo, chiedi al tuo candidato. Quale delle tue situazioni pensi di poter gestire più velocemente? Sponsorizzare 5 persone serie ed addestrarle a come insegnare oppure? Prima o poi ti verrà chiesto cosa devo insegnare loro? La risposta è che devi insegnare loro ciò che stai apprendendo qui adesso in questo libro, le 10 presentazioni foglietto. Hanno bisogno di conoscerle tutte, ma all'inizio sono sufficienti le prime 4. Insegna loro che 2 per 2 fa 4, perché le persone falliscono, eccetera. Quando pensi di impiegarci a sponsorizzare 130 persone? Quanti dei primi se ne sarebbero già andati quando stai sponsorizzando il 130esimo? Scopriresti che li stai perdendo abbastanza velocemente e invece scoprirai che il tasso di fedeltà dei 780 relativi alla presentazione foglietto numero 1 è considerevolmente alto. Appena mostri questo a quei venditori e lo capiscono, partiranno sumido dicendo, ah adesso so che cosa devo fare. Attenzione, trattienili. Dato che in genere non capiscono ciò di cui abbiamo discusso in questo capitolo, la maggior parte delle persone nel multilevel marketing incoraggerà letteralmente quelli che ha sponsorizzato ad uscire dal business. Infatti essi sponsorizzeranno qualcuno che tornerà da loro dicendo, ehi, ho inserito 5 nuove persone la scorsa settimana e tu rispondi, bravo, e lo incoraggi dandogli una pacca sulle spalle. La settimana successiva inserisce altre 5 persone, ma cos'è successo delle 5 precedenti? Se ne sono andate tutte. Se comprendi bene questa sindrome del venditore fallito, puoi comunque incoraggiarlo, ma contemporaneamente insistere su quanto sia importante occuparsi dei primi 5 che ha sponsorizzato ed aiutarli ad iniziare. Dopo aver sponsorizzato qualcuno, è più importante per me andare con loro ad aiutarli a sponsorizzare qualcun altro, che sponsorizzare direttamente qualcuno io. Non sottolineerò mai abbastanza questo punto, che verrà ripreso ancora in un paio delle prossime presentazioni. Delle 10 presentazioni in foglietto, le prime 4 sono assolutamente necessarie. Se proprio non hai tempo per concluderle tutte, parti almeno dalla prima e dalla seconda. Poi, dopo aver fatto un po' di pratica, puoi mostrarle ad altri, impiegandoci da 5 a 10 minuti. Il tempo dipende dalla tua capacità di spiegazione. Don Failla, tra le sue esperienze, racconta quella di aver avuto con una delle persone che illustrava la presentazione e foglietto al telefono dopo averla ricevuta al telefono. In uno dei programmi in cui ero coinvolto, avevo sponsorizzato un tipo di nome Carl. Carl mi raccontò di aver sponsorizzato sua figlia nel Tennessee, che conosceva chiunque nella sua città. Mentre parlavo al telefono con Carl, congratulandomi per la cosa, aggiunsi velocemente che dovevo dirgli qualcosa che avrebbe dovuto riferire a sua figlia. Gli chiesi se aveva portata di mano carta e penna e gli feci scrivere 2x2 uguale 4 e così via. Gli dissi di telefonare immediatamente a sua figlia per farle conoscere gli errori da evitare per partire nel modo corretto. Lo fece e ora il lavoro va a gonfie vele per tutti e due. Nella prima presentazione ti abbiamo raccontato alcune cose da fare e nella seconda presentazione alcune cose da non fare quando lavori in profondità con la tua organizzazione. In questa presentazione foglietto invece ti presenteremo le quattro cose che devi assolutamente fare per avere successo in un programma di multilevel marketing. Queste quattro cose sono assolutamente necessarie. Chiunque guadagni 100.000 o 200.000 dollari all'anno o anche di più in un programma di multilevel marketing ha fatto e continua a fare queste quattro cose. Per aiutarti a ricordare queste quattro cose le abbiamo accostate per analogia ad una storia che puoi raccontare alle tue persone. Così non solo percepiranno l'analogia ma si ricorderanno anche le cose da fare. La storia comincia così. Immagina di voler fare un viaggio sulla tua auto dalla piovosa Washington verso l'assolata California. Il sole della California rappresenta il raggiungimento del massimo traguardo nel programma in cui sei inserito. Quando ci arrivi hai avuto successo sei al top. La prima cosa da fare è entrare in auto e partire. Non esiste nessuno nel multilevel marketing che abbia fatto molti soldi senza per prima cosa partire. Quanto denaro occorre per partire dipende dall'azienda e dal programma che scegli come veicolo commerciale. Può andare da nulla in su sino a 12, 45, 100, 200 o persino 500 dollari o più. La seconda cosa che devi fare quando decidi di intraprendere il viaggio è fare benzina e controllare l'olio. Nel tuo viaggio verso la Vetta, la California, utilizzerai sia il carburante che l'olio, quindi i prodotti e sarà necessario rimpiazzarli. Il multilevel marketing funziona meglio con prodotti non durevoli. Userai quindi i prodotti e li ricomprerai ancora e ancora e ancora. Ciò significa che tu devi fare uso personale dei prodotti dell'azienda che rappresenti. Ricordati, nella presentazione foglietto numero 1 ti abbiamo dimostrato che con 780 distributori farai sicuramente volumi molto consistenti, a prescindere dal programma in cui tu stesso ti sei inserito. Puoi facilmente comprendere i vantaggi di costruire un business che ha come veicolo di commercializzazione i prodotti non durevoli. La maggior parte delle aziende di multilevel marketing sono in quella categoria. I prodotti durevoli vengono comunemente commercializzati attraverso la vendita al dettaglio o diretta, ma non sempre. L'altro risultato che ottieni utilizzando i prodotti per te è che ne rimarrai entusiasta. Piuttosto che spendere una grande quantità di denaro in pubblicità, le aziende di multilevel marketing investono il loro denaro nello sviluppo dei prodotti e ottengono, come risultato, dei prodotti di qualità migliore rispetto a quelli che si trovano normalmente nei negozi. La terza cosa che devi fare è inserire la quarta. Ovviamente puoi capire che nessuno può partire veramente in quarta. Tutti partiranno dalla folle. Guarda caso non stiamo guidando una macchina con il cambio automatico. Possiamo essere in auto, magari in autostrada, con la chiave inserita del motore acceso, ma se non cambiamo marcia e restiamo in folle non arriveremo mai in California. Per mettere la prima devi sponsorizzare qualcuno nel business. Quando sponsorizzi qualcuno sei in prima. Noi riteniamo che tu debba essere in prima cinque volte, con cinque persone serie. In una delle prossime presentazioni ti mostreremo come determinare quali sono le persone serie tra quelle che hai inserito, ma tu vuoi che anche le tue cinque persone mettono la prima, quindi insegna loro come farlo sponsorizzando qualcuno. Quando ciascuna delle tue cinque persone ha messo la prima per cinque volte, tu avrai messo la seconda 25 volte. A destra le tue cinque persone ad insegnare alle loro cinque persone come mettere la prima cinque volte. In questo modo loro mettono la seconda venticinque volte ciascuno e ciò significa che tu avrai messo la terza 125 volte. Quando possiedi distributori di terzo livello nella tua organizzazione, allora sei in terza marcia. Hai fatto caso a quanto sia più scorrevole l'inserimento della quarta quando guidi veramente? È lo stesso per la tua organizzazione. Tu vuoi inserire una marcia alta, appunto la quarta, il prima possibile. Ovviamente desideri che anche le tue persone mettono la quarta quanto prima. In questo modo tu metti il turbo. Come fai a mettere il turbo? Tu devi semplicemente aiutare le tue persone ad insegnare alle loro persone come mettere la terza. Ciò permette a loro di mettere la quarta e a te di mettere il turbo. La quarta cosa che devi fare mentre sei in viaggio per la California è quella di usare il tempo che hai per condividere i tuoi prodotti con le persone che stanno viaggiando con te. Fai in modo che li provino. Permetti loro di sperimentare i benefici dei prodotti. Quando vorranno sapere dove possono trovarli. Indovina un po' cosa farai a questo punto. Condividi i prodotti con i tuoi amici. Per molta gente questo rappresenta la parte di vendita al dettaglio del business. A questo punto è importante notare che attraverso le presentazioni foglietto numero 1 e numero 2 e ora anche numero 3 ti abbiamo descritto le quattro cose che devi fare per avere successo. Mai però ti abbiamo detto che devi andare a vendere. Ti abbiamo solo detto che non devi vendere i prodotti nel senso comune del termine vendere. Ti abbiamo detto che devi condividere i prodotti con i tuoi amici. Puoi farlo anche con persone sconosciute. Quando vedranno i benefici dei tuoi prodotti e del tuo marketing plan diventeranno per te dei nuovi amici. Non hai nemmeno bisogno di un gran numero di clienti. Diciamo 10 o addirittura meno. Se tutto ciò che avevi erano 10 clienti va bene così. Nota bene se non fai l'azione numero 3 inserire una marcia alta non fai molto l'azione numero 4. Non uscirai mai dall'autostrada. Questo è ciò che fanno i venditori. Solo quando avrai capito questo e l'avrai associato a quanto esposto nella presentazione foglietto 1 e 2 allora avrai sviluppato il corretto approccio al multilevel marketing. Partendo sin dall'inizio con il tuo candidato vuoi fissare nel suo subconscio il numero 5. Tutto ciò che devi fare è trovare 5 persone serie che vogliono entrare seriamente nel business. Quando incontri certe persone e chiedi loro come va puoi sentirti rispondere cavolo non trovo nessuno che voglia vendere. Ancora la parola a vendere. Smetti di cercare persone che vogliono vendere. Inizia a cercare persone che vogliono guadagnare 600 o 1200 o 1500 dollari al mese extra senza dover andare a vendere. Tutti i giorni. Conosci persone di questo tipo? La tua risposta come la mia e come quella di tutti sarà certo chiunque. Bene queste sono le persone alle quali devi rivolgerti perché ciascuna di loro vorrebbe mettersi in tasca quella grana. Metti in evidenza semplicemente che ci vorranno 5-10 ore del loro tempo libero settimanale per costruire il business. Ma subito dopo aggiungiamo che c'è di male in questo? A volte le persone entrano in un programma di multilevel marketing pensando che la sola entrata sia sufficiente perché tutto quanto visto sopra possa accadere. Sbagliato. Ricordati che l'auto che stai guidando verso la California non ha il cambio automatico. Entrambi conosciamo persone che sono andate all'università per prendere una laurea e non c'è assolutamente niente di male in questo. Forse anche tu sei una di quelle. Vai a scuola ogni giorno, studi tutto il giorno e anche metà della notte, settimana dopo settimana per anni. E quando alla fine ti lauri quanti soldi puoi cominciare a fare? Quindi dedica 5-10 ore alla settimana del tuo tempo per imparare le 10 presentazioni foglietto e tutto ciò che puoi relativamente all'azienda di multilevel marketing che rappresenti. Una volta imparate e capite puoi illustrare le presentazioni foglietto agli altri. Il libro che stai leggendo ora rappresenta la chiave per il tuo successo di domani. Non vogliamo però che tu possa pensare a mollare tutto ritenendo di non essere in grado di insegnare a qualcuno ciò che stai imparando qui. Certo questa potrebbe essere la prima volta che leggi o ascolti questi concetti e non ci aspettiamo che tu possa conoscere tutto così perfettamente da essere in grado di insegnarlo. Tuttavia non devi mollare. Ricordati per entrare in un programma di multilevel marketing hai bisogno di avere uno sponsor. Se il tuo sponsor è un vero sponsor ti aiuterà con le tue prime 5 persone. Nota bene è una relazione di aiuto e supporto nel processo di spiegazione delle presentazioni foglietto ai tuoi amici durante gli incontri. In quel momento il tuo sponsor sta addestrando anche te. Come suggerimento ti chiediamo di porti un qualche tipo di obiettivo personale. Quando arrivi a circa il 20 per cento della crescita nel tuo programma dovresti conoscere ed aver compreso bene le 10 presentazioni foglietto. Nel momento in cui sei a tre quarti del cammino sarai capace di addestrare gli altri. Quando sei in vetta o giù di lì sarai in grado di addestrare le tue persone ad addestrare gli altri. Essere in grado di padroneggiare la materia in un periodo di tempo relativamente breve porta un beneficio tangibile. Con questo libro e o le registrazioni audio sull'argomento puoi sederti a leggere e studiare, ascoltare le registrazioni ancora, ancora e ancora. Se tu avessi avuto l'incarico di farlo e avessi dovuto esaminare tutto il materiale 5, 6 o 10 volte e in un anno da adesso avesse significato accumulare 2, 3, 4 o persino 6 mila dollari al mese, cosa dici? Sarebbe valsa la pena spendere 5 o 10 ore alla settimana? Devi ammettere che questo è un modo particolarmente carino di andare a scuola, non ti pare? Dai un'occhiata ad alcuni dei libri che ti propinano nelle università cercando di imparare quello che dicono. Nessuno di essi ti farà fare tanti soldi. Benvenuti quindi all'Università del Network Marketing. Grazie.